Dario Berlier di Gressan, nuovamente all'interno dell'atelier. Vogliamo un po' spiegare i temi, le novità di quest'anno e lo stile? Allora, ho sviluppato alcuni temi, sono tutti diversi. Qua ho realizzato un ragazzo che disegna all'interno di una stalla, di un locale rustico, che ha come modelli dei ponigli con i loro piccoli cuccioli, piccoli poniglietti. E si è avvicinato in maniera molto discreta perché ha appeso anche una giacca per non disturbarli troppo e gli ha dato dei torsoli di mela per farli stare un po' più in posa e quindi catturare la loro attenzione. Proseguiamo verso altri pezzi. Qui ho fatto la maschera napoleonica, le lanzette, le maschere tipiche del Gran San Bernardo e praticamente l'inverno si prende un po' beffa della maschera napoleonica, che si è preso beffa a sua volta di tutti gli abitanti del paese. E quindi a festa finita si è trovata la macchina con una montagna di neve e per di più c'è un corvo che si prende di nuovo beffa, la beffa delle beffe. Chiamiamo anche i giorni della merla con il merlo lì? Ma sì, poi ci sono diverse interpretazioni. Ok, vogliamo spiegare un po' i materiali che utilizzi e la tecnica? Il materiale è Junglass Regia, è un noce nazionale, poi c'è una lieve colorazione monocromatica con del mordente e poi c'è una piccolissima velatura con dei colori acrilici. Grazie.